Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Fino a domani, mercoledì, alla mattinata di domani, il transito di un debole disturbo in quota determinerà condizioni di moderate instabilità. Successivo miglioramento con schierite più ampie tra il pomeriggio di mercoledì e giovedì per la temporanea rimonta dell'alta pressione sul continente europeo. Il dettaglio oggi, martedì 18 maggio, il debole disturbo in quota associato all'infiltrazione di aria più fresca, determina un rapido aumento della nuvolosità variabile su tutta la regione con addensamenti più consistenti sullo spezzino. Possibili isolati piovaschi sparsi più probabili sui rilievi nelle zone interne di centrolevante. Venti in circolazione ciclonica sul Mar Ligure con rinforzo fino a moderati nel pomeriggio da sud-ovest sull'Imperiese, da sud-est in rotazione da nord, nord-est tra Savonese e Tiguglio e da sud-est in rotazione da sud-ovest sullo spezzino. Mare in deciso aumento fino a molto mosso su entrambe le riviere, localmente agitato da sud-ovest tra la serata e la notte sullo spezzino. Temperature massime in diminuzione lungo la costa intorno a 17 e 18 gradi, nelle zone interne tra 19 e 21 gradi. Domani, mercoledì 19 maggio, l'ingresso di correnti settentrionali più secche favorirà condizioni di tempo stabile e soleggiato, con cielo in prevalenza sereno e poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibili attività cumuliforme sui rilievi alpini con deboli e rari rovesci o piovaschi. Venti in prevalenza settentrionali fino a moderati con rari rinforzi sul centro della regione, altrove deboli di direzione variabile. Nel pomeriggio tendenti temporaneamente da sud-ovest con locali rinforzi. Mare in mattinata mosso a ponente, da molto mosso a mosso a levante. Nel pomeriggio generalmente mosso, temporaneamente molto mosso a levante. Temperature minime in aumento lungo la costa tra 11 e 13 gradi, nelle zone interne intorno a 8-9 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 19 e 21 gradi, anche nelle zone interne tra 19 e 21 gradi. Dopodomani, giovedì 20 maggio, giornata di prevalenza soleggiata con velature sul ponente al mattino, in estensione su gran parte della regione nella seconda parte della giornata. Nelle ore centrali addensamenti cumuliformi sui rilievi alpini. Venti fino al mattino moderati con raffiche fino a forti sul settore centrale, specie sui rilievi deboli variabili altrove, dal pomeriggio generalmente deboli di direzione variabile. Mare in calo fino a poco mosso a ponente, mosso levante, temperature minime stazionarie lungo la costa intorno a 14-15 gradi, nelle zone interne intorno a 9-10 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 22 e 24 gradi, nelle zone interne tra 19 e 21 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!